Poi c'è Peccieri che è Riccardo Carnevale Carnevale e Carnevale Carnevale, ma quanto vuoi dire? Ecco, Carnevale, Peccieri 1 Bravo! 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 Ha avviso, sì? Si Calma! 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 Con tu, allo vedi? Lascialo! Quando abbiamo trovato le squadre quattro? Arrivederci Mori Bravo! 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 Stanno al nome No, no, il giorno è Ma il giorno è Dai, dai Pure, 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 pure! Pure! Vieni! Bravo, amico! Non stavo giocando! Vieni, vieni, vieni! Però, perché sennò così tutta una partita, eh! Aspetta lì, guardate, guardate! Vieni d'incontro! Vieni d'incontro! Vieni! Vieni d'incontro! Vieni d'incontro! Viena da! Vieni d'incontro! Vieni d'incontro! Vieni d'incontro! Vieni d'incontro! E si fa! Piazza! Vieni d'incontro! Bravo, V neri! Va bene, va bene! Parliamo di棒azione videocliptene 초보� norice, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.